Adesso, mezzanotte passata, abbiamo approvato un'importante delibera di giunta, sempre riferita all'emergenza coronavirus. Leggetevala poi con attenzione, la sintetizzo, il rinvio di una serie di scadenze di pagamenti, sospensione di altre imposte, eliminazione fino a cessata emergenza di alcuni tributi, gratuità per quanto riguarda strisce blu e parcheggi per chi ovviamente deve andare a lavorare, così come le deroghe sulla ZTL, i fitti e le pigioni per quanto riguarda gli esercizi commerciali non devono essere più dovuti, procedure di urgenza per acquisire materiale per sanificare, in particolare mezzi per pulire e igienizzare le strade della nostra città, direttive con cui si deve mettere in sicurezza ogni lavoratore, ogni lavoratrice, ma anche tolleranza zero per chi si rifiuta di svolgere servizi di pubblica necessità. È una guerra e bisogna combattere per chi è in prima linea. Insomma una serie di misure, un rafforzamento anche del lavoro agile, il lavoro da casa che fa del Comune di Napoli uno dei comuni in prima linea anche nella rapidità con cui mettiamo in campo tutte quelle azioni a supporto delle imprese, delle attività commerciali, dei lavoratori, insomma della nostra comunità per ridurre ogni appesantimento burocratico, non far pesare sui cittadini questa sofferenza dovuta al coronavirus e continuiamo anche con l'impegno per chiedere al Governo quelle misure straordinarie laddove il Comune non può arrivare. Quindi sempre 24 ore su 24 lavoriamo in difesa della nostra città e del nostro popolo.